ok continuiamo quel pazzo lì mi ha distrutto veramente ehi tu fermati chi parla con me oddio le tue guardie noi abbiamo ricevuto un consiglio anonimo riguardo un umano che indossava una maglietta a righe ci hanno detto che sta vagando nelle hotland giusto adesso lo so sembra terrificante beh stai calmo ti porteremo in qualche posto sicuro ok che cosa c'è fratello la maglietta che stanno indossando cosa c'è riguardo quello non sono umano fratello stai pensando quello che stia pensando io proprio quello com'è è mega imbarazzante ma cosa come ti permetti ah è un imbarazzante che non sono sorti noi in realtà dovremmo ucciderti e tutte cose cacchio mi attaccano le guardie reali pulisci l'armatura tema attacca what the fuck what the fuck ah mi ha preso lì sussurra hai detto di essere ornesto con i suoi sentimenti come non capisco ma porca ma porca sono morto bla 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 non puoi finire proprio ora simon non perdere la tua determinazione l'agra incredibile ancora no ma ancora no va bene la bra 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 super imbarazzante c'è dei due stupidi ok 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 no ok ok ah il primo lo devo ok devo pulirlo non posso farcela armatura troppo calda molto meglio sembra sembra rg1 sembra io io cosa cosa ti rende le stelle ninja stotte ragazzi non posso non posso non posso farcela ancora non così 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 0 2 io a me piace a me piace tu fratello il modo in cui combatti il modo in cui parli cosa sta succedendo amo fare team e attaccare insieme a te amo stare con te attaccando con le nostre armi in sincrono 0 2 io voglio stare così per sempre ehm intendo psicopatico capito prova 0 1 si fratello vuoi prendere del gelato dopo questo sicuro sicuro amico si guardano in modo felice ho vinto era più semplice quando pensassi ops vediamo cosa facciamo in mano i 10 show che ti fanno dimenticare riguardo lo stracavoli di lavoro e non ci vedo ancora niente ok sono tornata un'altra stanza vuoi eh non preoccuparti perché sto parlando come il grande papai le mie skill nella creare sono ehm sono morte se serio oh si ehi buonasera bellezza e bellezza e non so questo è un metatone che sta riportando qualche reporter in live dalle MTT News le novità del MTT è una situazione situante interessante è sorta nel a est delle hotland fortunatamente il nostro corrispondente è qui che sta riportando in live coraggio corrispondente per favore trova qualcosa da riportare i nostri dieci magnifici aspettatori stanno aspettando per te oh una palla la palla da basketball è un'esplosione non è vero bellezza peccato che tu non posso giocare con queste sono solo vado a indossare non da non da poterci giocare cosa no guardiamo un altro da no guardiamo un altro da riportare il cane che opportunista sensazionale perché c'è sens capito per una storia posso vedere il titolo di coda i cani esistono ovunque no guardiamo più in giro un regalo oh mio oh mai è un regalo ed è per te ed è indirizzato a te figliolo non stai scoppiando dall'eccitazione e andiamo in giro oh la la è un videogioco che ho trovato è dinamite pensate pensate hanno fatto un'apparizione va bene non ci sto capendo più niente ragazzi quello è il copione è lo scritto del mio film come come ci è finito lì vabbè no 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 non faccio no un bicchiere d'acqua ma tutto è un bellissimo bicchiere d'acqua ma tutto può fare una grande storia con abbastanza no voglio il cane voglio il cane voglio il cane attenzioni e osservatori per il nostro corrispondente il nostro corrispondente ha trovato un cane ci sento lui oh proprio così gente è la migliore storia dell'anno non guarda quelle piccole orecchie ha quella coda così carina aspetta un secondo quella non è anche una coda quella è un fuso proprio così quel cane è una bomba ma non preoccupatevi non avete ancora visto a fine della stanza è ancora tutta una bomba oh mamma mia sembra che tutto in questo senso è davvero una bomba quel regalo è una bomba quella parola pascarpone è una bomba ma anche le parole sono bombe corraggioso corrispondente se non disattivi tutte queste bombe questa questa bomba ti farai esplodere via in due minuti dopo non riporterei dal vivo io che terribile che disurbanza i nostri nove i nostri nuovi spettatori ameranno guardare questo buona fortuna figliolo non preoccuparti ho installato un programma ok quando la bomba nella zona di per essere disattivata devo ehm devo disattivarla come ah no devo colpirlo non fermi ragazzi devo colpirlo ah devo fare defuse bomb ah il cane è disattivato ottimo lavoro ora continuo a girare nella stanza oh mio dio oh mio dio oh mio dio no 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 oh cacchio oh cacchio non lo sapevo sto per esplendere male il bicchiere d'acqua che vuole ah manca la 57 secondi ma come come posso sto per esplodere male bomba dismescata ok roma sto per esplodere male malissimo malissimo dai al centro ok disattivata quante mancano c'è volta ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono vivo sono vivo 9 secondi mancano ben fatto figliolo hai disattivato tutte le bombe se non avresti disattivata la bomba sarebbe esplosita in 2 minuti no adesso non esploderai in 2 minuti esploderei invece 2 secondi addio figliolo ma sembra che la bomba non stia esplodere questo perché quando stavi facendo un monologo io l'ho sistemato ho cambiato oh no hai disattivato la bomba tra le tue skill nell'allacanaggio si questo è quello che ho fatto incredibile incredibile sembra che io sia stato sembra che io sia stato preso in giro ancora non ho detto a te non ho detto a te non ho detto a te dottor alfis per aiutare così tanto ma ma non maledro i miei 8 magnifici ascoltatori per essersi va bene so che è piuttosto strano prima ma ma penso che mi sto diventando più più confidente riguardo guidarti quindi non preoccuparti quel grande stupido robot ti proteggerà da lui e fanno così non lo so e se verrà con farti il male potremmo solo non preoccuparti allora dopo come salvo io ancora ho detto che sei sei molto quieto sei preoccupato riguardo a incontrare Asgore non preoccuparti ok il re è molto gentile sono sicuro che potrei parlargli e con il tuo anima ma ormai la potrei passare attraverso la barriera quindi non preoccuparti ok dimenticati dimenticati e e sorridi e quando posso salvare? quando posso salvare? left floor 3 ok posso salvare? dolci di rani tutto ricavato tra ai rani benvenuto centro è stato oh cosa? per 9999? ma non ho tutti questi soldi io qui qui è alfis questa stanza è come quella che vi ho visto prima ci sono due puzzle uno a nord e uno a sud dovresti risolvere l'embrami per procedere inoltre mi piacevi dire non non mi piace dare soluzioni di puzzle ma se hai bisogno di aiuto chiamami ok in realtà aspetta ho un'idea diventiamo amici su internet dove puoi ping mi puoi chiamare quando ho bisogno di aiuto aspetta siamo già amici non è vero? ti ho registrato giusto? e stavi leggendo tutti i miei post tutto questo tempo e spero che tu hai il mio mamma è foda cose strane oh mio dio dove posso salvare? pure i nemici ok ah 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 ho 5 di vita mangia 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 un hot dog perchè quando mangio un hot dog sento wah wah che cosi? guai senti questa abbraccia hai dato un abbraccio a Vulkin ti scalda il cuore e ti scalda anche tutto il corpo au la tua difesa è caro oh così adorabile muori 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 ok scusa? hai solo un colpo? oh oh ma a caso ma va bene così congratulazioni quei due lì non c'erano prima giuro oh non vengono qua ok oh mio dio no i laser non posso stare fermo come faccio il primo? arancio blu? arancio? ma perchè non sono morto? ma è un ruolo di vita, ehi! non avrei niente a guidarti, ma vuoi guardare degli show maghi io vi ho fatto insieme qualche volta è chiamato miu mio kissy cutie sure davvero? suona bene? ok vabbababababababababababababababababababababababababababababababaca ho saltato un po' di dialogo solo un po' e ragazzi sono di fretta vai via vai via, ah una cagato o questa No, scassavo, ah, così No, no, what? Non t'avo già per cagata io Di chi ha? Destra, no, destra Ah, ah, non me ne ho accorto Quanto razioni? Quindi presuppongo che non debba rifare Ti sei fermato a musare i fiori Ok Ti prego, niente amici, niente amici, niente amici Chi ha il radianza di te, no, niente C'è C'è un vattaggio laggando Il L'odore di ragnatelle riempie l'aria Se hai riempito di determinazione Però io ragazzi, per oggi mi favo qua Quindi se il video ci sono lasciate Metti il piace, iscriviti e io ci vedo il prossimo video Quindi, bella ragazzi